Stefano Volpato, direttore commerciale di Banca Mediolanum. Dottor Volpato, nelle puntate precedenti abbiamo parlato del ruolo del consulente finanziario in questo anno difficile che ci siamo lasciati alle spalle, caratterizzato dalla pandemia. Guardando al 2021, tra i vostri programmi di sviluppo e di offerta, c'è anche quello di una proposta articolata per la clientela ben patrimonializzata con delle soluzioni che possiamo definire goal-based. Può spiegare meglio ai nostri utenti di che cosa si tratta? L'approccio goal-based passa da un postulato, ed è che tutti noi abbiamo obiettivi importanti da raggiungere nella nostra vita, come ad esempio portare i figli all'autonomia finanziaria, e quindi accompagnarli fino al periodo in cui saranno autonomi, far fronte a periodi di possibile inattività lavorativa, doverci occupare di genitori in età avanzata, perché è la fortuna di averceli ovviamente, confrontarci con prestazioni sanitarie e pensionistiche che sono assolutamente inadeguate, e non ultimo il trasferimento efficiente del patrimonio agli eredi e famiglie italiane sono molto patrimonializzate. Quindi ho fatto solo alcuni esempi di obiettivi di vita che sono importanti da raggiungere. Se noi facciamo una fotografia alla situazione attuale, vediamo che l'87% degli italiani non ha idea di come raggiungere questi obiettivi, quantomeno non ha idea di come raggiungerli in modo specifico. Considerando la diversità di questi obiettivi, il tradizionale modello dell'asset allocation non è più efficace per l'investitore, per gli risparmiatori, è del tutto obsoleto. Quindi qual è l'elemento fondamentale? Occorre aiutare il cliente a dare uno scopo, a dare un nome al proprio risparmio e ai propri investimenti. È un problema di focus. Noi dobbiamo tutti rifocalizzarci, e mi permette di dire decisamente, sulle esigenze e sui progetti. E solo dopo implementare le soluzioni più idonee al raggiungimento degli obiettivi specifici. Il focus, ripeto, deve essere esigenze e progetti. Ed è questo che ci deve guidare. Per questo noi riteniamo che l'approccio corretto sia l'approccio goal-based. Quindi una sorta di consulenza integrata il cui punto di partenza sono le concrete esigenze e gli obiettivi di vita dei nostri clienti e ovviamente la rispettiva dimensione economica. Nel nostro caso è un approccio che noi siamo certi di poter portare alle persone grazie alla professionalità dei nostri family banker. a cui andiamo ad associare delle soluzioni tecnologiche innovative che metteranno appunto i family banker nella condizione di dare ai loro clienti prima di tutto una chiara visione del loro patrimonio familiare e la consapevolezza di quanto realmente serva loro per soddisfare le proprie esigenze. Da qui per poi andare a sviluppare un piano adeguato in grado di realizzare tutto questo ovviamente attraverso soluzioni e lo ribadisco agganciate saldamente agli obiettivi da raggiungere. Infine per rendere ovviamente completo questo approccio e far fronte ad una realtà sempre più complessa e interdisciplinare abbiamo pensato che ci fosse un altro bisogno da parte dei professionisti quindi dei family banker ed è quello di affiancare a loro delle figure specialistiche di supporto su quei temi specifici in modo da mettere in grado di estendere in modo importante le competenze dei family banker stessi e questo in un periodo in cui la consulenza deve essere lo dico per l'ennesima volta basato esclusivamente sulle esigenze dei propri clienti.